Antonella Clerici non si ferma più, novità prossima edizione The Voice Kids The Voice Kid addoppia, grandi novità per la prossima edizione Il successo della versione Kid di The Voice è stato tale che Alberto Dandolo sull'ultimo numero del magazine oggi ha già rivelato che nella prossima stagione TV ci sarà una nuova edizione con alla conduzione sempre Antonella Clerici Ma le novità per quest'ultima non sono finite qua, anzi Ma le novità per quest'ultima stagione Dopo la fine dell'edizione del suddetto talent show in cui i concorrenti sono anziani tornerà sull'ammiraglia Rai alla guida del mondo Dello spin-off con i bambini Insomma pare davvero che la prossima stagione TV sarà assolutamente impegnativa per la presentatrice Riuscirà anche stavolta a togliersi più di qualche soddisfazione? Alberto Dandolo sulla presentatrice fa una confessione, sta vivendo davvero una seconda giovinetta Il giornalista del settimanale oggi ha poi concluso questo suo ultimo intervento asserendo che Antonella Clerici Che ieri mattina in diretta è sembrata essere andata un po' in confusione, starebbe vivendo davvero una seconda giovinetta, visti gli ascolti che ha ottenuto in questi ultimi mesi con i suoi tre programmi The Voice Senior, È sempre Mezzogiorno e The Voice Kids Vive una seconda giovinetta professionale con ascolti e critiche favorevoli Intanto si segnala che in base a diversi voci di corridoio circolate online in questi ultimi giorni pare che questa sua stagione TV terminerà il 16 giugno per poi tornare sull'ammiraglia Rai a metà settembre circa più carica che mai dopo essersi riposata con i suoi affetti più cari E chissà se nei prossimi mesi ci saranno importanti novità anche da un punto di vista sentimentale Difatti sembra che la presentatrice potrebbe presto convolare a nozze con il suo compagno Vittorio Garrone. Ci saranno news in tal senso?